Ciao ragazzi, Italics Legend e Dio Eros! Quanto tempo, dove siamo finiti su YouTube? Cos'è questo? È YouTube? YouTube. È YouTube? È YouTube. E che cos'è YouTube? Non lo so, non lo so, non siamo da tantissimo tempo su YouTube perché come sapete siamo impegnatissimi sulla piattaforma viola, innominabile qua su YouTube. Vabm sulla piattaforma viola. Ci chiamiamo sempre Vabm ragazzi. E lì tra poco andiamo per i 50.000. Ma oggi andiamo a festeggiare un traguardio? Traguardo? Raggiunto quest'estate e tra l'altro il colmo perché siamo scelti di iscritti. Però ci siamo arrivati ragazzi. Perché abbiamo smesso di fare le like qua su YouTube, quindi un pochino siamo calati. Ma oh, i 100.000 li avevamo presi. E dovevamo arrivare? Che cosa ragazzi? Cosa arriva quando arrivi a 100.000 iscritti? I soldi, il potere, la fama, la gloria. Pensavo di dicevi la figa, però vabbè. Eh, magari, non era male l'idea. Comunque, no ragazzi, è arrivato il Silver Button. Abbiamo qua. Eccolo qua. E adesso lo apriamo insieme. Cioè, lo avevamo già aperto. Allora, abbiamo questa... Che cazzo è questa roba? Niente, era per proteggere il Silver Button. C'è arrivato un bigliettino che ho scritto. C'è scritto, Alex Legend sei un grande, congratulazioni. Eros non ha fatto un cazzo con questi 100.000 iscritti. Sono solo tuoi! No, non è vero. Al massimo io ho cariato, perché... Ma cariato con... Chi sa la storia di Bob? Chi è il fondatore? E chi è che ha fondato YouTube? Chi ha spinto su YouTube? Il grandissimo Alex Legend, cioè... Sì, ma il fondatore... Vabbè. Vabbè. Poi è arrivato un bel foglio bianco. Non è vero, c'è scritto... No, è al contrario. YouTube, som... C'è scritto, qualcuno è arrivato a 100.000 iscritti. C'è scritto, qualcuno è arrivato a 100.000 iscritti. E' quel gran figo di Dio Eros. Ha cariato di brutto Alex Legend. Grandissimo. Ma vai a prenderla nel culo, lo sanno pure loro. Vabbè, basta stronzate, tiriamo fuori il pezzo grosso. Guardate qua, ragazzi. Questo, cioè... Per chi ci segue da una vita, è una soddisfazione immensa, ancora in cielo fanazza. Sembra che cosa c'è da fuori. E' apriamo, eccolo qua, ragazzi. E' apriamo lo sto silver button. Vapm, Dio Eros, Alex Legend. Un attimo! Non lo rompa, non lo rompa. Apra. Mamma mia. Mamma mia. E che rispecchia troppo, vedete tutto, vedi, la prostazione attraverso lo specchio. Ma, sì, magari si vede pure il casino che c'è sul letto. Esatto. Comunque, è bellissimo, è bellissimo. Ma perché devi coprire la mia corsa? Lo punto in alto! Lo punto in alto. Così non rispecchiamo. Vapm, Dio Eros, Alex Legend, 100.000 iscritti. Sì, grazie. Sbam, ragazzi. Applauso in chat, madonna. Eeeeh, Gigi, ragazzi. Si può bestemmiare? Non su YouTube, certo, certo. Ma comunque, porco Dio! Eeeeh! 100.000, ragazzi. Questo lo appenderemo da qualche parte dove non... Il problema è che l'hanno fatto a specchio, ragazzi. Fa vedere tutto. Adesso c'è la password del canale, potete rubarlo. Attenzione, non è vero, ragazzi. È solo la grafica. Voi, da quanto ci seguite, ragazzi? Voi, da quanto cazzo ci seguite? Siete degli OG? Ci seguite dall'inizio? Non ci seguite? E state con... Intanto vi chiediamo scusa che siamo letteralmente spariti da YouTube, ma vi avevamo avvertito! Esatto, ragazzi, se non ci seguite venite a seguirci sulla piattaforma Viola, ragazzi. 100.000 iscritti con le live. I video da noi sono sempre dati di merda e lo sappiamo che noi. Ok, in onestà, ragazzi. Però abbiamo smesso di fare live qui, le abbiamo fatte, le stiamo facendo sulla piattaforma Viola e tra l'altro stiamo andando alla grande. Quasi 50.000, ragazzi. Stiamo carriando YouTube, perché su YouTube ci abbiamo messo... Una vita e mezzo, Alex. Volevo dire due anni per arrivare a 10.000, ok? Poi per gli altri, forse arrivare a 100.000, altri due anni tipo. Quattro anni ci abbiamo messo. Invece sulla piattaforma Viola siamo già praticamente a 50.000. E abbiamo appena festeggiato un anno, ragazzi. Quindi, ragazzi, venite a trovarci qua se non ci seguite là. E ragazzi, speriamo di vederci anche di più qui. Quindi lasciate un like, un commento, una madonna, qualcosa. Lasciate qua, fate vedere che ci siete ancora. Soprattutto gli OG che ci seguono da una vita qua su YouTube. Scrivete qualcosa. E lasciatelo un commento. E basta. Porca di quella madonna. E no, qua muore tutto. Esatto, esatto. E niente, raga, per questo video è tutto. Ah, e scriveteci anche cosa vorreste su YouTube. Qualche video, qualcosa. E anche io stavo pensando di cacare su YouTube, almeno faccio qualcosa, no? Esatto. Beh, stiamo caricando gli short, ragazzi. Quelli li carico sempre su YouTube. Che vanno bene, ma. Però, cioè, sono video di 30 secondi. Fatecelo sapere se volete qualcosa qui su YouTube, anche perché noi, se volete seguirci bene, attualmente, ragazzi, stiamo puntando sulla piattaforma Viola e su TikTok, ragazzi. E soprattutto su Instagram, anche, perché siamo attivi lì. Sì, ok. Adesso vi mettiamo i social. Cioè, dovrebbe uscire tutti i social. E devo ditarlo io. Deve ditarlo tu. Niente, comunque, siamo attivissimi su TikTok, che andiamo alla grande. Questo stronzo c'ha 300.000 su TikTok. Bam! Io sto andando per i 200.000, sono lì. E sto facendo più visual di lui. Bam! E niente, raga, quindi seguitici sui TikTok, su Instagram, per non perderci. E facciamo altro su YouTube. Ditecelo voi, ragazzi. Esatto, ragazzi. E ovviamente le live sulla piattaforma Viola. Niente, per questo video è tutto. DJI, ragazzi, 100.000, è arrivata la targa, la metteremo dietro. Lo chiudiamo così, lo chiudiamo così. Sì, che fai vedere anche tutto. Allora, mi rispecchio io. Rispecchia troppo. Ecco così, così. Non rispecchiare. Non rispecchiare. Un salutone da Dio Eros e Alex Legend. Alla prossima, signori. Chi lo sa quando torniamo su YouTube? Chi lo sa?